Io lo so che partiranno poi con la cosa del voto utile, con tutti i sondaggi che sappiamo come li facciamo, però noi sappiamo una cosa, noi saremo il voto utile all'Italia e agli italiani, noi saremo il voto utile, perché saremo i portatori di un programma che sarà un programma netto e chiaro su alcune grandi questioni.